di più. Come merita di più il Pescara, almeno secondo i suoi tifosi, che alla festa di Natale organizzata dalla società, infatti, hanno deciso di presentarsi così. I supporter bianco-azzurri si sono radunati nei pressi del porto turistico, dove era stata organizzata la cena del club. Hanno fatto esplodere dei petardi e acceso dei fumogeni, mentre alcuni di loro avrebbero anche preso a calci le auto dei calciatori, rendendo necessario l'intervento di numerose pattuglie e degli uomini della Digos, in un clima cupo e gelido, tutt'altro che natalizio.